Coat in the Headlights Ci muovevamo nella primavera, che timida nasceva nella mente, passi incerti della voglia sincera di affrancare un futuro deludente. Uccelli minuti nella voliera, fiori persi nel flusso del torrente, nubi rosse nel cielo della sera, frasi lette e rispedita al mittente. Era il nostro tempo che ci fu tolto, troppo presto da meritare un nome. Fu così che restammo senza volto, ma luminosi negli ultimi istanti, nell'interesse della vita come il lampeggiare dei fare abbaglianti. Coat in the Headlights Ci muovevamo nella primavera, che timida nasceva nella mente, passi incerti della voglia sincera di affrancare un futuro deludente. Uccelli minuti nella voliera, fiori persi nel flusso del torrente, nubi rosse nel cielo della sera, frasi lette e rispedita al mittente. Era il nostro tempo che ci fu tolto, troppo presto da meritare un nome. Fu così che restammo senza volto, ma luminosi negli ultimi istanti, nell'interesse della vita come il lampeggiare dei fare abbaglianti. Coat in the Headlights, quarto sonetto della raccolta Ultrasonetti. Dopo il surrealismo di paesaggio siciliano, la polemica femminista di Female Condition e l'umorismo di Mediterraneo Over 60, una storia tragica. Ma cominciamo al solito con gli aspetti tecnici. Lo schema delle rime è classico, in particolare le terzine presentano una piacevole simmetria. I primi due versi, ci muovevamo nella primavera, che timida nasceva nella mente, sono una sequenza A minore, A maiore, con accenti sulla quarta e sesta sillaba, nell'ordine. Il terzo verso, però, passi incerti della voglia sincera, sarebbe stato del tutto inaccettabile per Petrarca, in quanto non ha nessun accento né sulla quarta né sulla sesta sillaba. Un'endecasillabo simile si potrebbe leggere in montale. Eravamo nell'età virginale, qualche disturbata divinità. Questi versi, magnifici per quanto siano, non fanno parte di sonetti, ma di poesie a versi liberi. La fine dell'infanzia è i limoni. Sono però sicuramente endecasillabi, e ho deciso di usare costrutti simili per i miei sonetti. Sono detti endecasillabi non canonici. Ne abbiamo altri nel sonetto di oggi. Uccelli minuti nella voliera, frasilette rispedite al mittente, Era il nostro tempo che ci fu tolto, troppo presto, da meritare un nome. Per un totale di cinque. Vi sembrano strani? Pensate che disturbino l'andamento del sonetto? Scrivete nei commenti qui sotto, per favore. L'ultima terzina è rigorosamente a minore, con accenti sulla quarta sillaba. Caught in the Headlights sembra narrare una lotta collettiva per un cambiamento. La primavera, la voglia sincera di affrancare un futuro deludente, che finisce tragicamente il nostro tempo che ci fu tolto. Restammo senza volto, ma forse non in vano, luminosi negli ultimi istanti, tanto da indicare una via di salvezza nell'interesse della vita come il lampeggiare dei fari abbaglianti. Questa almeno sembra la storia che si evince dalla prima quartina e dalle terzine. La seconda quartina sembra suggerire qualcos'altro. Se il primo verso, uccelli minuti nella voliera, potrebbe indicare la scoperta dell'oppressione, una gabbia che anche se grande si rivela per quello che è, gli altri versi, fiori persi nel flusso del torrente, nubi rosse nel cielo della sera, frasilette rispedite al mittente, suggeriscono l'amore non corrisposto, corrisposto e rifiutato, nell'ordine. Allora è tutta una metafora per l'amore con i suoi alti e bassi e addirittura sacrifici? Questa chiave di lettura potrebbe essere suggerita da una frase di Francesco Alberoni dal saggio Innamoramento e amore. L'innamoramento è lo stato nascente di un movimento collettivo a due. Quindi tutto il sonetto sarebbe una metafora per l'amore, o meglio l'innamoramento. Credo che invece il riferimento a questi comportamenti da innamorati, fiori gettati nel torrente, guardare insieme il tramonto, le lettere d'amore, non faccia altro che qualificare i personaggi di questa lotta come giovani particolarmente soggetti ad innamorarsi. Giovani e quindi, tragicamente, che hanno tutto da perdere. A questo proposito, il riferimento alla primavera rimanda la primavera di Praga e la primavera araba come movimenti di liberazione. Anche se questo sonetto non lascia spazio all'umorismo, come quelli precedenti, abbiamo un'amara ironia. Era il nostro tempo che ci fu tolto troppo presto da meritare un nome. Suggerisce che questa primavera, a differenza di quelle di Praga e Araba, non ha un nome, come fosse una primavera di seconda categoria. Ma questo rende ancora più nobile la lotta e il sacrificio dei protagonisti. Anche se scritto un paio d'anni fa, questo sonetto è purtroppo ancora attuale in questa fine del 2022. Cotting the Headlights, quarto sonetto di questa raccolta. Vi è piaciuto? Per favore mettete mi piace, scrivete commenti qui sotto e iscrivetevi al canale Ultrasonetti. Grazie. 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 Grazie.